Andrea Melis, 40 anni a luglio, al Movimento 5 Stelle. Perché vi siete candidati alle elezioni regionali? Perché penso che ogni cittadino abbia il dovere e il diritto di farlo e abbia soprattutto il dovere poi di passare la mano ad altri cittadini per aumentare la partecipazione di tutti i cittadini. La sua priorità per la Liguria? Secondo me per la Liguria è importante in questo momento dare priorità al lavoro e il lavoro, secondo noi, va ricercato nelle forme nuove, nelle energie alternative, nelle smart city, nell'efficienza energetica. La sua priorità per le microimprese? Vorrei dedicarmi soprattutto alla formazione professionale, aiutandole a migliorarsi e diventare più spendibili nel mercato globale. Il suo primo impegno se sarà eletto? Il mio primo impegno sarebbe quello di osservare con attenzione tutte le attività e gli atti che sono stati condotti in questi anni nel mondo della sanità, che occupa gran parte del bilancio regionale ed è una priorità per tutti noi cittadini d'Iguri. Lanci un tweet. Ripartiamo con Savona 2.0. Un hashtag. Savona 2.0.